Questa giornata ci aiuta a ricordare le vittime del Covid e anche perché in questo giorno la nostra parrocchia ricorda la Madonna delle Grazie. Abbiamo voluto unire queste due cose proprio per lasciare un messaggio e un ricordo fisso nei paesani, quello di voler essere sempre di più una comunità, una comunità che si stringe nel dolore e che vive la festa insieme. Questa lapide, questo ricordo che lasciamo dell'artista Giavoli è proprio il desiderio che gli costeva una comunità che cerca Dio e che vive con i fratelli. Questo luogo che tiene insieme due cose, la stele e gli alberi appena piantati, non è solo la stele, ci sono anche gli alberi appena piantati che ci danno la possibilità di ricordare, di essere vicini, di riflettere, ma ci danno anche uno sguardo verso il futuro. Con queste piante che cresceranno, come fanno loro, senza fare rumore, accompagneranno e faranno sempre più ombra, quindi renderanno piacevole lo stare vicino a questa bellissima opera. Ha avuto modo di poter sbirciare sotto il telo, devo dire qualcosa di molto toccante, che aggiungerà valore a quello che troviamo qua. Grazie. 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 Grazie.